ho visto sono arrivate grazie finalmente si mangia buon appetito signora grazie grazie sentivissimo eh cara Susi dopo quanto tempo eh mo tornando al discorso dei figli mia cara Susi i figli purtroppo crescono crescono e diventano grandi diciamo che un pochino li perdiamo per esempio la grande a me sta Liverpool si lavora in una azienda di di roba elettronica informatica mentre il piccolo sta a Berlino in Germania e lavora in una grandissima farmacia stanno benissimo e sono contento stanno lontani vabbè però pazienza ci sentiamo ogni tanto oh ma il tuo come si chiama Raffaele bravissimo come sta che fa guarda tu ma che te lo devo fare si pensa che sono sei anni che suona il conservatorio sei anni che suona che suona ha conservato e noi non ancora la pepe e di a tuo figlio che deve forse spingere meglio il bottone del citofolo capito? alla salute e forse lo apro la salute ai nostri figli ai figli